Per la terza batteria si stanno preparando Alessandro Curto corsia 1, Giosuè Rocco il 2, Marco Pizzol il 3, Dylan Buonaguro in 4, Alberto Camillotto il 5, Nicola Maric in 6, Stefano Iovine in 7, Riccardo Marton in corsia 8 Siamo al dorso sempre ragazzi maschi secondo e terzo anno quindi nello specifico 2003-2002 Nicola Lorenzetto in corsia 4 a mettere un riferimento cronometrico 60 e 56 su Ismaele Bonelli 1,02 e 73 2,Tokio 3,Twito 15, Riccardo 6,Gi 4,Gi 3,L Collins 6,Gi 5,6 5,16 6,Gi 6,000 5,00